Si è conclusa ieri la nonna edizione del torneo di Beach Volley organizzato dal Forum dei Giovani di Grottolella. L'annesimo successo per la manifestazione sportiva è diventato ormai un evento abituale dell'estate grottolellese. Un successo che nonostante le limitazioni e le misure anti-Covid da adottare, ha visto la partecipazione numerosa di squadre e soprattutto di pubblico, consegnando spazi di normalità in un periodo molto difficile. Ad aggiudicarsi l'edizione 2020 è stata la MIGC di Rocca Bascerana che ha battuto in finale i ragazzi locali della rimandata per 3-0. Il terzo posto invece è andata alla compagina vellinese dei pronti a tutto. Migliore giocatrice Serena Solime nell'estate dei ragazzi del Forum dei Giovani di Grottolella non finisce di certo qui. Il direttivo sta infatti valutando se organizzare una nuova manifestazione sportiva, torneo di calcetto o Beach Soccer. Per il momento resta il successo del torneo di Beach Volley appena conclusosi.